salve ragazze video breve mi chiamerà vediamo subito abbiamo il 2 di spade abbiamo il re di bastoni e abbiamo il 2 di denari prendiamo una carta mi manchi da morire prendiamo un'altra carta sono innamorato di te terza carta ti ho tradito ma sono pentito allora questa persona re di fuoco vedete sicuramente al momento non vi chiamerà perché tremendamente indeciso e oltretutto con questo 2 di spade lui sa di avere con voi un dualismo un antagonismo cioè qui si vuole vincere a tutti i costi pur essendo innamorato di voi sono innamorato di te eppure mancando mancando gli da morire lui non vi chiamerà ciao